Sono veramente sconcertato nell'apprendere le dichiarazioni di alcuni esponenti politici con riferimento al futuro assetto da dare al sistema di gestione dei porti di Messina e di Milazzo. E la dichiarazione del sindaco Carmelo Pino in riferimento alle notizie apparse circa la proposta di costituire un'autorità portuale di Messina a Gioia Tauro. Secondo Pino, in maniera semplicistica, si individua la città capoluogo come riferimento del crocerismo e Milazzo come interfaccia dell'attività commerciale da rapportare a Gioia Tauro. Secondo il primo cittadino di Milazzo si tratta di un ragionamento approssimativo e farneticante in quanto espressione di una subalternità nei confronti dello scalo portuale calabrese che non trova alcuna motivazione nei fatti e nei modi e che Milazzo respinge in modo netto. Tutto ciò premesso, come si legge nella nota diramata dall'ufficio stampa del Comune, che la discussione è stata avviata senza tener conto degli altri tre comuni facenti parte a pieno titolo del Comitato dell'autorità portuale di Messina, oltre Milazzo appunto San Filippo e Pace del Mela. Pino sostiene che negli anni con determinazione si è riusciti a ritagliare al porto di Milazzo il ruolo di complementare a quello di Messina, senza rinunciare all'ambizione di crescere come scalo turistico con naturale alla vera vocazione della città. In poche parole, un porto con una sua identità condivisa, che nessuno oggi, afferma con forza il sindaco, può mettere in discussione.